Dei 25 milioni sequestrati alla famiglia Moretti oltre 6 sono stati decurtati, questo quanto deciso ieri dal Tribunale del Riesame che ha così in parte riformato il decreto di sequestro del GIP Pier Giorgio Ponticelli. Nello specifico sono stati decurtati 2 milioni e 312 mila euro per Antonio Moretti, 3,9 per il figlio Andrea e 170 mila per l'altro figlio Alberto. I beni non torneranno comunque nelle disponibilità della famiglia Moretti, il vincolo resta, cambia invece la natura giuridica del reato alla base del sequestro. Non più autoriciclaggio ma altri beni di natura tributaria e fiscale. Antonio Moretti e il figlio Andrea ai domiciliari a seguito del blitz della Guardia di Finanza e l'altro figlio Alberto interdetto invece dalle cariche sociali rispondono in solito delle somme contestate ai fini fiscali. Le singole cifre decurtate saranno così sottratte singolarmente dal totale. Andrea Moretti a questo punto non dovrà più rispondere di 25 milioni, bensì di oltre 21, così come il padre e il fratello, in conseguenza quanto decurtato dal Riesame. Beni che però potrebbero essere confiscati a seguito di precedenti sentenze di condanna a carico dei tre, sempre per reati tributari e fiscali. Il Tribunale del Riesame conferma così il FUMUS e dunque l'effettiva consumazione dei reati e condanna gli altri al pagamento delle spese.